ancora aggiornamenti da muoversi in toscana bentrovati da mauro ciutini sulla 1 ci sono ancora code tra calenzano e il bivio con la 1 in direzione bologna passiamo alla 11 code a tratti tra firenze ovest e prato est la direzione quella per pisa un veicolo in avaria in a1 tra rezzo e monte san savino la direzione quella per roma attenzione alla pioggia segnalata al momento soprattutto sulla firenze pisa livorno e a firenze il traffico intenso sui viali di circovalazione in entrata ed in uscita dalla città veniamo alla tranvia da stasera a firenze nuovamente a disposizione un tratto della doppia corsia in uscita sul controviale strozzi verso via lavagnini in modo da agevolare l'uscita dall'area della stazione è tutto muoversi in toscana in collaborazione con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze più tardi grazie a tutti grazie a tutti